Ehi tu vuoi fare fichi fichi con me, facciamo fichi fichi insieme, ehi tu vuoi fare fichi fichi con me, facciamo fichi fichi insieme, me e tu. Bellissima Gianni, allora sei qui, sei contento di partecipare in questa manifestazione benetica? Sono molto contento, viva l'Istituto Ramazzini che fa delle cose meravigliose. Ecco, io caro ti ringrazio di essere venuto qua, spero che ci potrai tornare, poi vediamo. Tornerò volentieri. Quindi per te è stata un'emozione. Grande emozione. Grande emozione. Grande emozione. Quindi veramente Gianni. Ci vediamo il prossimo anno. Benissimo, io ti ringrazio di cuore, ti auguro tanta felicità e tanta fortuna. Anche a te, anche a voi. Grazie. Grazie a voi. Grazie tesoro, grazie mille. Ciao. Grazie a tutti.